Il cancro invece è tutto il contrario, starete proprio a vostro agio in compagnia delle persone a cui volete bene, dei vostri fratelli, dei vostri parenti, dei vostri cari, dei vostri figli. Insomma, dove c'è famiglia c'è un cancro, in pratica, felice, radioso, sorridente. Poi potrete magari anche aver deciso di trascorrere una giornata lontano da casa, magari per raggiungere proprio un parente distante e allora veramente il quadro potrebbe essere perfetto perché proprio un viaggio, uno spostamento può portare una sorpresa gradevolissima.